Il cinema italiano così, il cinema italiano così... Ah vabbè, ma il cinema italiano è un cinema di merda! Vediamo se mi ricordo come si fa. Arriva il cinema Mixed by Harry di Sedane Sibiglia e noi ne dobbiamo assolutamente parlare perché voi dovete assolutamente andare al cinema a vederlo. Ciao giovani, benvenuti e ben ritrovati sul canale, io sono Gabriella e finalmente sono ritornata qui su YouTube. Come potrete notare alle mie spalle, cambio location drastico che è anche la motivazione per cui sono stata così tanto lontano da YouTube. Trasloco cambi, logistiche, routine stravolte, un mental breakdown importantissimo. Insomma, YouTube è una piattaforma che richiede ovviamente del giusto tempo, non mi piace fare le cose a membro di Segugio, come direbbe il nostro René Ferretti, perciò mi sono presa un pochino di tempo prima di ritornare su questi schermi e sono contentissima di farlo con un film che ho adorato, tra l'altro un film italiano di uno dei migliori registi italiani che abbiamo allo stato attuale nella nostra scena. Prometto che adesso siamo ufficialmente ritornati e ritorno alla recensione, gli approfondimenti, i consigli e anche qualche format nuovo. Vi ricordo però che sono anche presente su altre piattaforme dove invece sono stata un pochino più costante in questo periodo. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, perché qui c'è da parlare. Dopo Smetto Quando Voglio e l'Isola delle Rose, Sidney Sibiglia ritorna al cinema e ancora una volta ci dimostra non solo che è dannatamente bravo a fare questo lavoro, ma che è sempre incredibilmente geniale, soprattutto che ormai è diventato il santo patrono del troppo sulla rivincita del nerd. Perché se vogliamo i tre film che lui ha fatto qui nella trilogia, di Smetto Quando Voglio, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose e appunto Mixed by Harry, ha sempre come protagonista delle persone vittime di un sistema, diciamo così, non sempre meritocratico, non sempre giusto, che cercano di arrangiarsi a modo loro. Quindi gli ultimi che diventano primi, non sempre con mezzi, definiamoli, legali. Ecco, diciamo che un altro film rouge dei suoi film è sicuramente questa mancanza di legalità o comunque essere un pochino borderline che caratterizza sia i docenti, i professori, i studiosi del Smetto Quando Voglio che si improvvisano spacciatori alla Breaking Bad, sia insomma un Elio Germano assolutamente rivoluzionario con grandi idee, grandi sogni a tal punto da creare uno stato, il stato dell'Isola delle Rose nel bel mezzo del mare. Infine poi ci ritroviamo nella Napoli degli anni Ottanta con i fratelli Frattasio, in particolar modo Enrico Frattasio, che lui nella vita voleva solo fare il DJ. Poi in realtà ha dato vita alla pirateria in Italia. La storia appunto è una storia vera, trattola una storia vera, i fratelli Frattasio, Giuseppe, Enrico e Angelo, che negli anni Ottanta, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, diventano letteralmente pionieri di questa creazione, questa vera e propria industria di musica a sette. Musica a sette copiate diventano talmente tanto forti, talmente tanto importanti, riescono a creare un mercato che parte in realtà in maniera molto ingenua, direttamente nel quartiere, loro sono lì di forcella, poi piano piano escono al di là dei confini della città, al di là della provincia, regione, fino a quando poi il mercato non si estende quasi in tutta Italia, in modo particolare nel sud Italia, a tal punto che all'inizio degli anni Novanta diventano la prima etichetta musicale italiana, un'etichetta musicale italiana, però effettivamente non riconosciuta, perché di fatto loro non facevano altro che copiare illegalmente la musica di altri, addirittura l'occhio del ciclone scoppia effettivamente quando ci si rende conto che loro riescono addirittura ad anticipare il Festival di Sanremo, la compilation ufficiale del Festival di Sanremo, il Festival di Sanremo il primo giorno va in onda e loro il giorno dopo hanno già la compilation ufficiale, che invece sarebbe uscita ovviamente dieci giorni più tardi, diventano talmente tanto famosi che si cominciano ad avere dei falsi, ovvero altre persone che piratano i Mixed by Harry che a loro volta piratavano ovviamente gli originali, quindi mi raccomando, solo falsi originali, non falsi dei falsi, ecco qua siamo già in questa atmosfera assolutamente paradossale e assurda che in realtà è una cornice che ha fatto parte in realtà dei nostri tempi, ora probabilmente come me qualcuno di voi non se lo ricorderà, perché magari come la sottoscritta siete nati negli anni 90, ma c'erano ancora bancarelle piene di musica 7, CD, VHS anche addirittura, però ecco magari qualche genitore o se qualcuno di voi è un po' più grande se lo ricorda molto bene, per esempio la mia mamma, che è figlia proprio di quel periodo, beh lei poi è napoletana, lei lo ricorda molto molto bene, ma appunto non è una cosa che riguardava unicamente la campagna, ma che poi si è stesa un po' ovunque, ed è stato in realtà fondamentale perché il termine pirateria nasce proprio poi da questa vicenda ed è proprio grazie a questa vicenda che si cominciano a fare delle leggi un po' più ferre, non solo sul diritto d'autore, ma anche appunto sulla pirateria, sul rendere illegali tutti quegli strumenti che consentono di guardare in una maniera non legale, perdonate questo gioco di parole, film in questo caso, musica, anche i libri, poi certo per la musica le cose sono cambiate, da Napster in poi, l'avvento di Spotify, infatti sono cambiate le leggi, il modo di far fruire la musica, che ormai è praticamente gratuita per tutti quanti, però magari questo problema è ancora fortemente persistente per quanto riguarda film, serie, anche libri, di tutte le questioni riguardanti gli ebook, però ecco, prima se era possibile, se i fratelli Frattasio sono riusciti in questa impresa anche in una maniera un po' ingenua, non consapevoli di quello che veramente stavano facendo, perché le leggi erano molto labili, il confine fra ciò che era legale e ciò che era illegale, praticamente era inesistente, era una linea sottilissima, non a caso la cosa più assurda di questa situazione, che loro si sono arricchiti velocemente, in pochissimo tempo, con una cosa per la quale non rischiavano niente, ed infatti sono andati avanti per dieci anni, sotto l'occhio di tutti quanti, perché figurati, ma sono solo delle musiche a sette, ma che male fanno! Lo stesso Harry, ingenuamente che appunto lui voleva solo fare il DJ, non ci vede nulla di realmente sbagliato in quello che sta facendo, salvo poi rendersi conto che effettivamente la situazione era un pochino sfuggita di mano. Secondo me una cosa interessante da dover dire immediatamente di questo film, è che ovviamente parliamo di un film, non di una biografia ufficiale, ovviamente un film che si ispira a un fatto realmente accaduto, fa riferimento a quelle persone, vi dico anche un'altra cosa, una piccola chicca che potrete notare, o l'avete già notata se avete visto il film, su una delle ultime scene del film durante il processo, la parte dell'accusa viene interpretata dai veri tre fratelli, frattasio Enrico, Peppe e Angelo, quindi sono più che consapevoli da questa storia, comunque è stato tratto un libro da cui Sidney Sibilia e Armando Festa hanno poi scritto effettivamente il film Mixed by Harry. Però dobbiamo comunque considerare che il punto di vista di un regista e di uno sceneggiatore, c'è comunque un processo di adattamento, non è una biografia ufficiale, e non si vuole romanticizzare il pirata, non è appunto un documentario, è comunque una storia di ispirazione, che racconta più che altro di ragazzi un po' ingenui, soprattutto il protagonista che aveva un sogno e ha trovato il suo modo per applicarlo a quel sogno, perché Harry è un genio letteralmente della musica, ma è molto timido, molto introverso, e lì quando si presenta alle serate per fare il DJ, DJ Enrico, non viene molto preso in considerazione, non viene preso sul serio, perché gli dicono che manca di internazionalità, manca di presenza, di bellezza, quindi tutta una serie di cose che gli impediscono di fare quello che lui vorrebbe fare realmente. Perciò nel suo piccolo trova un modo effettivamente per riuscire a fare quello che ha sempre voluto fare a modo suo, però sorvolando quindi questo ostacolo. Infatti è una cosa molto interessante, un po' anticipo ai tempi, rispetto a quello che viviamo noi con le piattaforme, una volta capita che guardiamo un film, una serie, e quella piattaforma ci consiglia qualcosa, è una cosa che faccio pure io, mi capita soprattutto su TikTok, che consiglio un film, una serie, e mi viene chiesto, ma altre serie simili a questa qui? E quindi lì parte ovviamente la carrellata. Ecco Enrico lo faceva già ai tempi di quando poi copiava le musicassette, ovvero se uno gli andava a chiedere, faccio una citazione dello stesso film, la cassetta con una compilation, New Romantic, lui sapeva già che se ti paceva quel genere, probabilmente ti sarebbe piaciuta anche la New Wave, e quindi in coda alla cassetta, magari gli ultimi tre brani, ti metteva appunto tre brani di New Wave, così nel caso in cui ti fosse effettivamente piaciuto, tu saresti tornato per avere anche la cassetta della New Wave, e lì di conseguenza ti avrebbe consigliato magari altri tre artisti, e via questo circolo vizioso. ed è esattamente in questo modo che espandono poi il loro piccolo mercato, il loro commercio, mostrando anche il grande genio, la grande bravura poi di Enrico, nel comprendere non solo la sua grande formazione, passione per quanto riguarda la musica, ma di comprendere anche i gusti musicali degli altri. Quindi diciamo che il film, il focus del film, è un po' l'arte dell'arrangiarsi, cosa che secondo me si è anche un pochino persa, tipica poi se ci pensate anche del cinema, a me una cosa è venuta in mente, così andando di pala in frasca, un po' Mario Bava, le grandi cose che si inventava Mario Bava, e che guardandole adesso rimaniamo stupefatti, adesso abbiamo la CGI, i grandi trucchi, le cose, invece all'epoca che non si aveva tutto questo, si faceva di necessità e virtù, e quindi letteralmente si tiravano fuori i conigli dei cilindri, e si creavano però delle cose realistiche, impressionanti, meravigliose, ecco appunto l'arte dell'arrangiarsi, che è un po' quello che fa Enrico. Sidney Sibiglia si concentra soprattutto su questo aspetto, raccontando ovviamente questa storia assurda, che poi racconta anche l'Italia degli anni 70, e degli anni 80 in modo particolare, non solo Napoli, ma anche la Milano degli anni 80, ci sono un paio di momenti, insieme a uno straordinario Fabrizio Gifuni, che fa poi insomma questo Arturo Maria Barambani, che praticamente è l'uomo rappresentante dell'azienda, con cui loro fanno affari, per potersi far mandare in maniera legale, cassette vergini, insomma questo a un certo punto si rende conto, questi qua spendono 5 miliardi in vecchie lire, di cassette vergini, dice sai che c'è, qua c'è della robina, con cui possiamo fare degli affari, per dire, loro erano in affari con un sacco di persone, anche in maniera molto legale, proprio perché poi per, quando la finanza a un certo punto si rende conto, soprattutto a Napoli, che qua siamo un po' al limite della legalità, allora loro decidono di fare tutto in maniera trasparente, fondano le società, hanno il ricevitore di cassa, fanno le fatture, pagano le tasse, quindi hanno dei fornitori, si mettono insomma tutto legale, tutto bellino, tutto pulitino, ed effettivamente la gente comincia a fare affari con loro, se non fosse comunque il mercato principale, il traffico principale, beh è mercato nero, e di natura prettamente illegale, e quindi poi ovviamente questo avrà delle conseguenze, anche sulla vita di chi ha collaborato con loro, facendo finta di non sapere, non è chiudendo un occhio, ma chiudendone proprio due, della serie non vedo, non sento, non parlo, ecco. Dicevo c'è la ricostruzione storica, che viene fatta la Sidney Sibilia, che è estremamente interessante, a differenza però di ciò che veniva fatto nell'Isola delle Rose, nell'Italia, nella Rimi, nel Riccione degli anni 60, dove appunto c'era anche uno sguardo, tra virgolettoni, molto più documentaristico, molto più ricercato, ecco qui la ricostruzione storica, dovuta anche alle bellissime scenografie fatte da Tolino Zera, è accompagnata anche da una ricostruzione più nostalgica, che affonda anche un pochino le radici nella memoria, la memoria dello stesso Sibilia, che in quel periodo era stato bambino, e non lo so, tutto questo dà al film un'atmosfera molto più intima, molto più familiare, molto più semplice anzi, che quindi ce lo rende molto più vicino come film, non è una di quelle costruzioni, dove appunto l'effetto nostalgia diventa stucchevole, morboso, come ormai insomma negli ultimi anni, da Stranger Things in poi, ma è un effetto nostalgia molto più soft, che gioca in realtà con i ricordi, senza renderci per forza di cose malinconici, anzi il tutto serve proprio a rendere la storia ancora più terra terra, e anche molto più veloce in quella che poi è la sua frizione, dettata in particolar modo da una sceneggiatura ben strutturata, ben ritmata, e anche da una regia molto molto ben strutturata, quindi il film ha anche questo ritmo estremamente scorrevole, incalzante, il film dura all'incirca 110 minuti, ma vi posso assicurare, da persona che l'ha già visto due volte, prima volta in anteprima stampa, poi ci sono riandata per accompagnare il mio compagno, cioè non te ne rendi conto, sei lì che sei completamente stregato da tutto quello che stai vedendo, e soprattutto ti stai divertendo tantissimo, perché uno degli aspetti più belli della sceneggiatura di Mixed by Harry, sono i dialoghi, questi dialoghi è tutto estremamente scriptato, vi potrà sembrare molto improvvisato, ma è invece tutto ben scritto, e questo fa la differenza, ci sono dei tempi comici che sono straordinari, che affondano un po' le radici in quella che è la vecchia commedia, secondo me di Edoardo De Filippo, che parla anche poi dei paradossi, delle persone più povere, se vogliamo, cosa che fa molto sorridere, che i tre fratelli Frattasio hanno questo padre, dove insiste tantissimo sul fatto che, mi raccomando, l'onestà è una cosa che in questa casa non deve mai mancare, perciò insomma, meglio modesti che ricchi, però arricchiti con i soldi della mafia, cose così, poi però è lui il primo che va a vendere le bottiglie di Jack Daniels, alla stazione, che in realtà sono bottiglie false, c'è dentro c'è del tè, che gli stessi figli filtravano poi quando sono bambini, quindi c'è pure tutto questo paradosso, però no, c'è un tipo di onestà e un altro tipo di onestà, non fai male a nessuno, se vendi la bottiglia contraffatta, invece ovviamente i traffici della mafia sono ben altro, tra l'altro la storia è anche ben inserita, in quel contesto, in tutto ciò che succede a Napoli in quel periodo, non viene mai raccontato in una maniera drammatica, ma è perfettamente però armonizzato e corrente con quello che è lo stile del racconto, non per questo però lo deve far diventare necessariamente parodistico buffone, anzi, semplicemente si allinea questo tono molto più paradossale, quasi un black humor, che va avanti dall'inizio alla fine, che poi ha anche quel tipo di comicità napoletana, che fa riferimento proprio agli anni 80, anzi se vogliamo anche molto più indietro, una cosa, ora la prendiamo un pochino con le pinze, però uno da qualche parte dovrà pur cominciare, Luigi Doriano, il protagonista che interpreta Henry Frattasio, ricorda Enrico Frattasio, ricorda moltissimo un giovanissimo Massimo Troisi, ha proprio quel modo di porsi, un po' naif, un po' ingenuo, un po' svampito, che ricorda il modo di recitare di Troisi, sempre estremamente naturale, sempre molto, un po' cascato dalle nuvole, che però fa riflettere anche su quelle che a volte sono alcune dinamiche sociali, relazioni legate alla famiglia, disparità sociali in questo caso e anche ingiustizie varie, quindi secondo me lui è stato estremamente bravo nel concentrare la sua professionalità, però in una maniera così spontanea, così naturale, che insomma la timidezza di questo personaggio mescolata, la sua genialità e anche senso degli affari, che però lì ha una spinta importante dal fratello Beppe, che è un po' la mente commerciale, il businessman, definiamolo in questo modo, che poi tutte e tre sono un po' bonaccioni, ecco, mi ha ricordato moltissimo proprio il Troisi degli inizi, io sono estremamente convinta che Luigi Doriano, Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo, rispettivamente Enrico, Peppe e Angelo, i tre giovanissimi protagonisti, non molto conosciuti, ma mi auguro che questo film gli dia un busto importante, sono veramente bravi, 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 attori nuovi, freschi, giovani, non i soliti nomi, sono loro che rubano la scena e soprattutto sono stati straordinari nel creare un'armonia, un legame fra questi tre personaggi, ogni volta che ci sono loro sullo schermo, circa l'85% del film, forse addirittura qualcosa in più, l'occhio dello spettatore è completamente catalizzato su di loro, come una calamita, veramente sono magnetici e funzionano benissimo, perché poi sono molto simili e al tempo stesso sono diversi, ognuno ha una sua voce, ognuno ha una sua caratterizzazione e funzionano proprio perché si compensano tra di loro, appunto Giuseppe è quello intelligente fra i tre, quello che ha l'occhio più per l'affare, anche quello un pochino più realista, ma che poi alla fine è una persona molto concreta, Enrico è il sognatore, Enrico è timido, Enrico ha questo sogno ingenuo, meraviglioso della musica, voglio solo fare la musica, la musica non si ferma mai, e poi c'è Angelo, Angelo è meraviglioso, il personaggio di Angelo è qualcosa di incredibile, Emanuele Palumbo è veramente, veramente bravo, ecco, mentre Doriano mi ricorda un po' a Troisi, Palumbo ha veramente qualcosa che riprende tanto il teatro di Edoardo De Filippo, c'è anche una citazione poi a De Filippo, e ha un modo di porsi, lui è quello intraprendente, è quello che tiene la vera cazzimma in realtà, fra i tre ed è bravissimo, proprio per questo motivo loro si compensano tanto, tanto fra di loro, poi ovviamente sono supportati anche da un cast di attori un pochino più navigati, ma che non gli rubano mai la scena, prima vi citavo Gifuni, ma per esempio ci sono anche Adriano Pantaleo e Cristiana Dell'Anna, che sono i genitori dei tre protagonisti, e sono molto più alle spalle, poi Cristiana Dell'Anna anche in un personaggio un po' diverso dal solito, rispetto a come l'abbiamo conosciuta, Ingomorra che è stata sempre inserita in questi personaggi femminili, molto molto forti, invece questa mamma, sempre molto apprensiva, anche lei, questa dolcezza, questa malinconina degli occhi, bellissima, meravigliosa, regala dei momenti molto molto interessanti, anche lei, così come Adriano Pantaleo, insomma, ha un fan prodigio dei film napoletani, diversi anni fa con, però io speriamo che me la cavo, insomma, tutta una serie di film pensati ai ragazzi e bambini, tra gli anni 80 e gli anni 90, e davvero vederlo lì, anzi, credibile, fatto un patto col diavolo, perché è un invecchiato di una virgola, ha sempre questo viso molto da ragazzino, ecco, da bambino fanciullesco, e poi secondo me straordinario è Francesco Di Leva, Francesco Di Leva è l'ispettore fortunato Ricciardi, che è l'uomo che intuisce, che dietro a questo traffico così, da poco, di cassette, di musica 7, c'è molto, ma molto molto di più, impazzisce all'idea che c'è il falso del falso, diceva sono tutti i falsi, no? E questo è un falso originale, infatti porta avanti la sua crociata, cosa che poi effettivamente è stata molto utile ai fini della pirateria, ovviamente per ostacolare in tutto e per tutto la pirateria, bravissimo Di Leva, veramente bravo, 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 un personaggio, questo sceriffo quasi, no? Del Rione, questo suo portamento molto da orso, molto feroce, in completo contrasto, invece, con questi ragazzi che sono un po' caduti dal cielo, definiamoli in questo modo, quindi tutto l'intero cast funziona veramente alla perfezione, e la cosa bella è che sono riusciti proprio a tirare fuori una naturalezza, che secondo me è fondamentale per un film di questo tipo, perché nel momento in cui lo spettatore si rende conto che è anche solo minimamente costruito, ovvero che è un film, si rompe qualcosa, uscite fuori dallo schermo e non riuscite più a rientrare nel flusso, in questo flusso invece che è dinamico, ritmato, estremamente divertente, a volte affilato, molto intelligente, perché se c'è una cosa che io amo di un film come Mixed by Harry, è che è un cinema che diverte, un cinema che è stato fatto da persone che si sono divertite, ma è che è un cinema molto intelligente, un cinema che comunque dà degli input allo spettatore, non vuole solo fargli subire passivamente, è una storia insomma che porta anche un po' a riflettere, quel senso e quello, ed è proprio per questo che secondo me, leggendo qui e lì qualche critica sulla, ah vabbè però stiamo romanticizzando la pirateria, c'era bisogno di fare un film sulla pirateria, ma il film non sta raccontando quello, è ovvio che è un'ispirazione, l'ho già detto, è ovvio che c'è una revisione dei fatti, delle cose, e si vuole più che altro raccontare il sogno, tra l'altro il film non dice, ma non dà mai una pacca sulle spalle ai ragazzi, anzi, comunque racconta pure le conseguenze di tutto ciò che hanno fatto, non è che rimangono impuniti, così come non rimanevano impuniti, nella realtà non rimangono impuniti anche nella, nella fizione filmica, insomma veramente, sono critiche che dal mio punto di vista, lasciano un po' il tempo che trovano, e decontestualizzano completamente, quello che stanno guardando, ecco per me è proprio sbagliatissimo, altro elemento secondo me superlativo, ovviamente imprescindibile per un film di questo genere, è la musica, le musiche sono di Michele Braga, c'è una canzone originale di Liberato, molto molto bella, ed è un mix fra canzoni originali, canzoni effettivamente dell'epoca, italiane e anche internazionali, e invece la musica originale, curata da Michele Braga, bellissima, meravigliosa, secondo me dà ancora più effetto al tutto, anche perché poi si sposa, in maniera deliziosa, con quella che è la fotografia, questa Napoli, così colorata, così brillante, ovviamente, c'è anche la Napoli dell'87, si sente proprio, ecco Napoli in tutto, e per tutto è anche questo, è qualcosa che secondo me riscalda molto lo spettatore, proprio un film di comfort, è un film che vi mette di buon umore, se avete le scatole girate, andatevi a vedere Mixed by Harry, perché secondo me vi cambia drasticamente l'umore, è proprio un film che fa ridere, non solo sorridere, è proprio un film che fa ridere, è un film che coinvolge, ed è anche un ottimo esempio di cinema italiano, e lì dove dovrebbe andare il cinema italiano, un cinema italiano divertente, un cinema italiano giovane, un cinema italiano originale, ma originale non tanto per la storia, ma come la sta raccontando questa storia, e anche l'uso, per esempio, di un piano sequenza, una scena di un battesimo, che è straordinario, ma anche proprio il giocare, con la camera da presa, con le inquadrature, il divertirsi, rendere tutto estremamente pop, colorato, divertente, ti mette proprio voglia di andare avanti, anzi quasi quasi dispiace, che il film dura solo, duri solo 110 minuti, si vorrebbe vedere qualcosa di più, ma non per questo il film rimane incompleto, anzi, arriva proprio a compimento, lì dove deve arrivare, pure con un film, che giustamente, tiene un sacco conto, di tutto quello, che poi avverrà dopo, sono molto divertenti, le reazioni tipo, al televideo, che cosa sorprendente, il televideo, oppure addirittura, quando arrivano i cd, i compact disc, il digitale, che si guarda, quasi come se fosse fantascienza, come se fosse star wars, c'è pure citazioni di questo tipo, e tutti quelli, che sono stati poi, i cambiamenti, ovviamente, di quegli anni, e le piccole rivoluzioni, che poi appunto, guardati con gli occhi, al 2023, fanno ancora più sorridere, e pensate, chissà cosa, cosa ci potrebbe, cosa ci potrà, riservare il futuro, tra, tra dieci anni. Poi secondo me, è un film molto interessante, anche per la situazione musicale italiana, da poco è finito il festival di Sanremo, e di quanto sia importante il festival di Sanremo, ora, al di là del fatto che Mixed by Harry, è stata nel 91, veramente la, l'etichetta italiana, più venduta in Italia, il che, insomma, va a sorridere, visto che appunto, tutto era basato, la loro industria, basato sul mercato nero delle cassette, quello che ovviamente, è indignato, più di tutti, è proprio, il fatto che, riuscissero ad uscire, subito, con il festival di Sanremo, durante il festival, ancora in corso, ecco, quindi, anche l'importanza di Sanremo, no, tuttora ci si chiede, ma vabbè, ma ancora senso fare Sanremo, saremo di qua, saremo di là, eppure, Sanremo, letteralmente, un'istituzione italiana, lo è stata, lo è, chissà, secondo me, continuerà ancora a esserlo, nel bene, e anche nel male, il film è una produzione, Groellania, quindi appunto, Sibiglia, Matteo Rover, è già quello, secondo me, è sinonimo di garanzia, è una collaborazione, però, anche con Netflix, quindi, allo stato attuale, lo trovate al cinema, io vi straconsiglio, di vederlo al cinema, perché questi sono i film, che vanno sostenuti, è un film, che va, assolutamente sostenuto, il fatto che è una collaborazione con Netflix, mi fa pensare, che fra otto mesi, probabilmente, arriverà in piattaforma, però, ragazzi, no, davvero, vale la pena, no, spendere questi soldi, per vedere questi, non è solo, vedo un film al cinema, ma è proprio sostenere quell'industria, far capire, perché è facile, puoi lamentarsi, infatti, il cinema italiano così, il cinema italiano colì, quando invece ci sono tantissimi artisti, il problema, che ovviamente, se non si fa capire, perché è un problema di produzione, alla base di tutto questo, se non si fa capire, che il pubblico è interessato, a questa roba qui, a questo cinema qui, a queste storie raccontate in questo modo, e non al solito cinema borghese, che c'ha proprio rotto le palle, non esiste più questa borghesia italiana, siamo ossessionati dalla borghesia italiana, e basta con questa borghesia italiana, ecco, si continueranno a produrre film, che fanno dire alle persone, ah, vabbè, ma il cinema italiano è un cinema di merda, da quando no, non è vero, assolutamente non è vero, anzi, per fortuna, sono sempre di più, anche con un tono diverso, i film italiani, di autori, autorici italiani, assolutamente degni di nota, però, mi raccomando, andiamolo a sostenere questo cinema, e andiamolo a sostenere in sala, sono contenta, di essere tornata, insomma, a fare i video, spero che questa recensione, vi sia piaciuto, ovviamente, aspetto poi, i vostri commenti, il video se vi è piaciuto, pollicione in su, attivate la campanella, e continuate a seguirmi, prometto, prometto, che da questo momento in poi, saremo regolari, con la programmazione, come lo eravamo, fino a qualche tempo fa, io vi ringrazio, per avermi seguito, per essere stati con me, fino a questo punto, noi ci vediamo, ad un prossimo video, ciao! Ciao!